Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è Giorobi. Oggi ti faccio vedere come è possibile riprodurre piante di fragole da una vecchia coltivazione. Prima però, se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti al canale e lascia un like per questo video. Pronti? Iniziamo! Per moltiplicare le nostre piante di fragole utilizzeremo gli stoloni. Lo stolone è un ramo laterale che spunta da una gemma ascellare vicino alla base della pianta stessa. Prendiamo quindi un vasetto, lo riempiamo di terriccio, all'interno posizioniamo lo stolone e lo ricopriamo per 2 cm con del terreno. I vasetti sono pronti, ora ci resterà solo in umidire con uno spruzzino 3 volte al giorno. E dopo circa una settimana possiamo già recidere lo stolone e quindi conservare solo la pianta che sta, come puoi vedere in questo video, sviluppando le radici. Ora, come sempre, tocca a te. Fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo metodo e se conosci metodi diversi, beh, raccontameli qui sotto nei commenti. Ciao, grazie! Ciao, grazie!